Bracchi e Aramini Possiamo almeno sentire un'impressione di colui che guida la classifica assoluta del Piston Cup Eh sì, niente, situazione un po' difficile di tempo E niente, vediamo, siamo qui per far bene Si è visto? Si, si è visto Esatto, prima volta qui, quindi vediamo Lì si ha portato tutti i tagli, le foglie Sì, sì, certo, segue tutte le indicazioni Mi scivola dappertutto In bocca al lupo ragazzi, Bracchi e Aramini Che sono i capolisti della classifica assoluta del Piston Cup Che fanno le costruito Continua Forse Forse Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.